mister carella salve salve buona salve mister allora una una buona partita tre punti portati a casa Zappi ha realizzato una doppietta un primo tempo forse un po troppo di studio ma no un tanto una partita fortemente condizionata da un terreno di gioco che non mi aspettavo io ho giocato qui lo scorso anno ed era un tappeto un tappeto verde oggi invece è un campo praticamente ai limiti della praticabilità e per fortuna che non ha piovuto perché se no sarebbe stato veramente difficile è stata una partita dove comunque la posta in palio poteva sembrare di poco conto invece era molto alta perché loro ancora non avevano vinto e immagino volessero raggiungere il massimo risultato in questa partita da parte nostra siamo venuti con la consapevolezza di affrontare una squadra giustamente cattiva dal punto di vista agonistico perché comunque cominciava a dover avere necessità di fare punti e quindi è stata una partita di studio però condizionata sicuramente al terreno di gioco ma già nel primo tempo pur rimanendo sempre compatti nel campo abbiamo avuto due occasioni da gol un presunto rigore che non so se c'era sinceramente però comunque qualche cosa abbiamo creato pur contraddistinguendoci ancora una volta per la capacità di concedere poco agli avversari infatti per tutto il primo tempo non abbiamo concesso niente poi nel secondo tempo piano piano siamo usciti anche abbiamo ci siamo affacciati ancora di più credo che abbiamo anche vinto meritatamente la partita era una partita che noi ci tenevamo tanto perché volevamo confermare questo trend esterno che è caratterizzato da dieci punti su dodici penso anche una un rendimento da squadra di primo posto a cospetti invece di un andamento in casa dove ancora qualche punto manca quindi per noi era importante qui fare il risultato e abbiamo fatto il risultato pieno credo anche meritatamente data 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 core goal lett